Ciao a tutti, questo è un'altra cosa che oggi siamo qui in compagnia Marche sul magico mondo di YouTube Wow! E oggi andremo a fare una cosa proprio così improvvisatissima, è venuta questa idea abbastanza malsana E molto traumatizzante E oggi andremo a fare la reaction ai video nelle tendenze di YouTube Abbiamo già esplorato un po' e wow Allora, iniziamo benissimo direi Anna è in ospedale, scuola di Minecraft 4, episodio 4 di Lion Abbiamo tirato fuori quel sangue, da dove? Con una miniatura che raffigura probabilmente uno stupro No, no Perché c'è un mezzo cuore in fondo? Guarda la posizione degli occhi di quelle persone No, e guarda la posizione di quel mezzo cuore Perché è lì? È al contrario E adesso andiamo a visionare per poco tempo questo contenuto Se no ci strike hanno il video, ciao Lion, non ci menare Io sinceramente non lo vorrei nemmeno guardare Troppo tardi, io l'ho già fatto Beh, tu osserva un attimo e non voglio Bene bene bene, siamo qui da un po' di tempo ormai in questa matta caverna Stai soffrendo Ma... Oh shit, ok adesso si Lo so portato per circa due secondi quella voce poi ho detto basta Già pensiamo con cose di cui non me ne può fregarti meno Tipo Seth e Rosalba stanno assieme Ma assieme così ai 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 Don't know if it's kind of Giusto scriverlo così Sì, è giusto Andato non messo insieme dall'altro assieme Comunque ho visto una volta uno Una volta l'altra E fine non me ne frega niente Se passi la fleccetta sopra al video Parte un'animazione dove c'è lei che sta facendo Sguazzare una patera Non mettere assolutamente il video perché fa paura È fantastico La fa il bagnetto a Elisabeth episodio 3 Cioè vuol dire che la fa il bagnetto a Elisabeth è una serie mi stai dicendo Già stremo Chi Cristo è? Ha 638.000 views sto video Ho appena visto una bambina orgasmare perché ho toccato dell'acqua Cioè è sbagliato Non lo devi dire Poi dopo ci ho visto un monte a Bigo No aspetta aspetta adesso sto esplorando Elena fa il bagnetto a Elisabeth Oddio ci è morto È morto Cos'è? Episodio 3 di che cosa? Dai su Elena dai Elisabeth ancora un ultimo sforzo Ma tra quanto arriviamo nel foto spallo Dati perché non dovete ancora vedere Alla felpa di Gucci Falsissima Che lavandino è quello? Alla felpa di Gucci stra fake Guarda il lavandino Aspetta cos'è? Cos'è Cristo? Oddio è tipo il triciclo di quello che lancia il cos'è e fa Mega faggot I got some real shit for you Y'all motherfuckers been waiting a long time for this motherfucker Mega faggot È quello Non so chi si è L'ha unboxato Che bella è felice Ti piace andare sul video Sì Adesso arriviamo A vera si sfaccuì Cosa Cristo fa? Oddio Metti 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 a 1.20 Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Elena Che cringe Che cringe Ciao Sto morendo Un attimo zitta E non sta zittà E non sta zitta Elisabeth Cosa avrete fatto lì dentro? Ma lì dentro dove? Odore 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 Adesso dovrete certamente farvi una doccia Andiamo Oddio Oddio no no aspetta ma dopo cosa cristo dice come avete fatto a finire la dentro dentro a che cosa e poi a caso oh ma che odore pazzo transizione orribile ma perché fa il bagnetto nel lavandino troppo fredda e la mette ancora più fredda ma è più fredda di prima ma sei cretina in culo oh shit dei tindi io esco maria alessandra moro trova modo ok questa è una canzone va bene non ce ne frega niente ma adesso arriviamo proprio al clou del cringe ragazzi guardate codesto canale amelite questo è pazzo non è cringe quello di prima era cringe questo anche è cringissimo tanto fiamma ha fatto un video su questo canale è andato da vedere ogni domenica alle 13 caricano un video mi sa che ci dovremmo iscrivere a questo fantastico canale cioè guarda la guarda il thumbnail quanto è fantastico ma ha posato un orologio per terra è diventato un drone aspetta ammiriamo oh cristo questa si è appena fatta 20 kg di chetamina marioana cocaina eroina crack lasci sfumo chetamina anfetamina bombe 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 5 5 5 5 5 5 quindi 5 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 e questo causa questi effetti il moussindiru il senti se lo che dico è trichissimo osciglie se dormire sopra dei libri non diventerai mai intelligente wow 200 iq level è next level sta bambina dorme sui libri per imparare ok si è messa degli occhialini oh cristo oh shit adesso io faccio uscire pulcino da questo uovo cosa sta facendo non voglio non voglio cos'è? la sbagliata questo vabbè chi se ne frega che cos'è? chi se ne frega è morto sacco di video ammigui ciao raga vai su ok tutti pensano sia una bambina normale vabbè cose inutili che poi anche il challenge di patellas va bene con la ruota hanno inventato la ruota wow rischi anche con un luogo di cioccolato ma stiamo passi aspetta ci sono dei pancake poi degli altri pancake normali e la tipa ha in mano un broccolo cosa ci dovrebbe essere di così tanto strano? niente che quel broccolo sta per finire nel suo culo? quello è strano si quadri firmati FabiJ ok non so scegliere un titolo per questo video Wilbush ecco non lo scegliere e paghia e non mettere più quella miniatura fumagalli fumagalli va bene taglia verso Spalani ma il calcio c'è sempre lui solve cosa Cristo vuol dire? in strada come risolvere i vostri problemi non sarà molto vero Zed lo zombie Jeko, Splash e Bing aiutano Dotti a curare uno zombie Halloween Challenge Dov'è la challenge in tutto ciò? porco di zii dov'è la challenge? dov'è? oh no zii Gianmarco Zagato no guarda è satanicissimo oh Cristo hanno appena montato uno zombie via 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 zii zii guarda quello sotto non metterlo al video però guarda guarda solo quello che ti fa vedere se ci metti sopra la frecetta è sbagliatissimo Gianmarco Zagato che fa reti satanici con i sassi perfetto si è pazzo bene ho l'italiano felice allo vincolazione di italiano cartone animati challenge già che ci siamo perché perché no interazioni con i fan fine la macchina acchiappa a squeeby wow dai creatori delle lore surprise challenge acchiappa a squeeby cioè ce li metti dentro e li acchiappa ok questo qua direi che non ho capito un belino telemarocco mi sa che questo è tipo un telegiornale di volendipatizia noasio argento la trista storia della vera casa dei simpson questo me l'hanno proposto non l'ho voluto guardare perché cosa allenamenti in palestra con kendall oh kendall pazzo kendall è potente kendall è strano gazzelle sopra con due tipi pelati che si limonano ecco questo non bisogna vedere no evitiamo dai vanni il diario di l'opera episodio 3 cyberbullismo sono delle barbie chi se ne è sorte appunto mi chiamo lucas oddio si chiama lucas via 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 ciambella di frolla morbida senza impasto e nutella quindi è senza impasto e nutella di che cazzo è fatta è buona mi rendete conto che i nostri video sono migliori di questi voglio questo video voglio questo video ero primo in tendenza con due views canzoni altri canzoni speciale 50k ronaldolimited ok scambiare i cellulari fidanzati in vacanza ok una vecchia signore degli anelli cosa no perché assurdo ho fatto limonare le ragazze no click vei portate le ragazze a limon le ragazze limonare ragazze ma 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 hai sentito qualcosa di così strano no ma più che altro c'è prima dice una cosa poi ne dice un'altra adesso hai fatto limonare ragazze con ragazze ragazze con ragazzi perché la seconda sarebbe abbastanza normale non è che ci voglia molto e altre persone che fanno rosalve luca e katy musical di battle 22 trucchi sperimentali in cucina si aspetta rosalve contro luca e katy non c'è se espor rosalve da sola contro loro no è triste rip 22 trucchi sperimentali in cucina e questo ce lo guardiamo tutto di 5 minuti creativi non è che fai fai miniscraft cioè sta mettendo del dentifricio in una padella con del sangue tramarcia e va bene 15 minuti anche no eh vabbè me ne guardo due ok oh cristo guarda dietro ha infilato una banana oh shit perfect roll è molliccio zio ok ha messo del ketchup in una padella che cosa ma non è ketchup è vernice acrilica quella roba pancake butter ok la pasta dei pancake dentro all'affare del ketchup wow fai prima con un mestolo zio fidati e fa pure schifo ok sta spalmando il nulla su della carta oh what the fuck che cos'è mi sto sporcando oh squish e droll oh quello oh cutted squish e droll eh non squish e droll se magari sei capace a tagliare shit che mi se ne frega sei squishato appunto tanto te lo mangi e ciò cosa cristo serve non so aspetta aspetta adesso arriva la ah ok no no non arriva ok spalmato altra vernice acrilica sul palino poi con lo cerume cos'è quello schifo eh quello schifo che mi ha fatto assaggiare mia mamma madonna sta di culo oh no il burro di cacchini esatto che schifo è piccio frizz è bongo è bongo basta allora è durato già tanto eh si aspetta siamo arrivati molto in basso si vabbè quindi signori fate finire questo video prima in tendenza che direi che se lo merita e niente tra un po' saremo in live su fortnite non perdetevelo in realtà il video se va bene uscirà dopo la live ma no e vabbè quindi signori per questo video è tutto iscrivetevi se ne avete ancora fatto commentate e condivete con tutti i vostri amici e noi ci rivediamo a un prossimo video bello ciao